Manca l'appalto e la regione si riprende 4 milioni di euro di fondi masterplan che nel 2016 erano stati messi a disposizione per completare l'anello della filovia di Chieti che avrebbe dovuto ricongiungere i due capolinea di piazza Sant'Anna e via dei Vestini passando per via Picena. Tra cambi di amministrazione nel 2016 la giunta comunale era capitanata dal sindaco Umberto Di Primio con Mario Colantonio assessore ai lavori pubblici ai quali nell'ottobre del 2020 sono subentrati rispettivamente il sindaco Diego Ferrara e l'assessore Stefano Rispoli. Oggi l'opera definita strategica per il comune di Chieti dal punto di vista dell'ecosostenibilità risulta incompleta tra lungaggini burocratiche e responsabilità politiche di cui si accusano reciprocamente maggioranza e opposizione. Maurizio Costa capogruppo di Forza Chieti. Per tutto è un danno per la città perché il comune di Chieti ha perso un'occasione per dare un'altra struttura ai cittadini per raggiungere l'ospedale di Chieti. Sono 4 milioni che purtroppo sono ritornati indietro. Il danno è che dovranno riconsegnare anche circa 200 mila euro che era stato dato come anticipo per i progetti che giustamente i progettisti hanno depositato. Pertanto oggi Chieti non avrà questi fondi perché dopo due anni non sono stati capaci di espletare una gara d'appalto per far sì di aggiudicare questi soldi. Quali sono però le responsabilità dell'amministrazione di primio? Fino al 2019 sono stati presentati progetti definitivi. Poi nel 2020 dovevano presentare il progetto esecutivo come ripeto è stato depositato ottobre 2022 e poi andare in gara d'appalto. Lì è stato più che altro un errore amministrativo ma loro oramai non si possono più nascondere sulla vecchia amministrazione. Oggi noi abbiamo perso 4 milioni. Dal 2020 loro si sono insediati hanno avuto la possibilità di seguire l'appalto e di andare in gara perché la recessione è stata fatta il 23 dicembre 2022 per cui due anni dalla loro gestione. La responsabilità oggi politicamente si può attribuire al sindaco Ferrara. Amministrativamente è chi era il dirigente di quel periodo e il dirigente attuale. Alberta Giannini, consigliera comunale di maggioranza. La prima cosa che devo dire per assicurare alla città è che nulla è perduto perché gli uffici dei lavori pubblici sono già attivati affinché la regione che può scegliere anche di riattribuirci il fondo perduto cioè i 4 milioni di euro nell'ambito della loro programmazione regionale 21-27. Questo è un finanziamento attribuito al Comune di Chiedi nel 2016. Nel 2016 l'assessore dei lavori pubblici era il consigliere oggi di opposizione Mario Volantonio quindi sono io a nome dell'amministrazione Ferrara che chiedo lo stesso perché in 4 anni non è riuscito a portare avanti questa che era un'importante ed è un'importante opera per la nostra città. Quando ci siamo insediati non era a disposizione la necessaria progettazione esecutiva cioè che è quella che rende canterabile e quindi esecutiva la realizzazione dell'opera. È stata consegnata agli uffici a luglio 2022. A novembre questa amministrazione ha indetto tre gare che sono andate tutte e tre deserte. Poteva l'amministrazione Ferrara anticipare quello che è stato fatto nel 2022 al 2020-2021 che erano anni in cui già c'era l'amministrazione Ferrara? No, evidentemente no perché c'è stata la necessità di reperire i progettisti di realizzare e approvare il progetto esecutivo. Non abbiamo la tempistica delle opere pubbliche particolare perché il percorso è complesso. Io credo che gli uffici abbiano fatto il massimo così come l'assessore Stefano Rispoli. A questo punto si chiede formalmente alla regione così come è stato fatto già dagli uffici di riattribuirci le somme necessarie affinché si possa completare l'anello della filovia.